Che cosa ha in mano? Sì, questo è un esempio di quello di cui sto parlando. Questa capsula che vedete qui è in realtà una doppia telecamera che serve per eseguire un esame endoscopico che si chiama l'endoscopia capsulare. Quella che comunemente viene detta la pilla che si può deglutire per... è questa qui. Come vedete è di dimensioni veramente molto ridotte. A cosa serve? Serve per studiare le patologie dell'intestino tenue. Quindi non è un sostituto della gastroscopia o della conoscopia. È un straordinario strumento che viene utilizzato per identificare alcune patologie del tratto digestivo intermedio, quello che è difficilmente raggiungibile sia dal sopra che dal sotto. Quei metri di intestino tenue che in passato erano un po' una terra sconosciuta per il gastroenterologo ma che ora con questo strumento possono essere analizzati in profondità. Quindi quella capsula contiene una telecamera per fortuna senza fili, se no sarebbe un tantino più difficile da utilizzare, la singoria con degli elettrodi collegati al corpo esternamente in modo che ciò che riprende la telecamera venga registrato, poi monitorato e valutato da voi specialisti, e dopodiché con le funzioni fisiologiche del caso la capsula viene espulsa. Giusto? Esattamente, quindi è un dispositivo monouso ovviamente, come potete capire è un dispositivo monouso costoso, quindi è un esame che anche per ragioni di coste deve essere utilizzato in maniera selezionata e che poi appunto permette di avere delle informazioni che servono per gestire il trattamento successivo delle patologie che vengono evidenziate. Al convegno coglieremo l'occasione appunto di fare un po' il punto della situazione sull'utilizzo dell'endoscopia capsulare dopo alcuni anni, ormai una quindicina che è diventata di uso comune, ma ci accorgiamo dalle domande delle persone che magari ci dicono mi faccia fare quella pillolina piuttosto che la gastroscopia che non si è capito ancora bene a che cosa possa servire. No, beh, ma infatti ringrazio anche il dottor Segato per questo. A microfoni spenti mi raccontava che le origini di quell'invenzione sono militari israeliani, di un professionista israeliano negli Stati Uniti che poi con un collega di studi impegnato in medicina ha avuto quest'idea che è anche un'idea di impresa evidentemente e ciò che era stato pensato per motivi appunto di difesa, quindi una capsula da infilare nelle tubazioni urbanistiche diciamo delle città a rischio di attentati e viene invece poi riconvertita per un utilizzo all'interno delle nostre tubature, quelle del nostro organismo. Questo è giusto per impoverire il tema, banalizzarlo, ma anche renderlo più comprensibile. Stiamo parlando di un'invenzione di quasi 30 anni fa nella sua origine e di circa 20 nella sua nuova versione medica, dimostrazione di quello che ci diciamo ogni volta che ci incontriamo, cioè che ormai la tecnologia non è più scindibile da ciò che sapete fare a livello clinico, non è assolutamente più separabile. Certamente un fortissimo ausilio per quello che il clinico, che resta un clinico però non un tecnico, ha a propria disposizione. Anche questa è una cosa che ci tiene sempre a sottolineare.